tutti questi motivi ma resta un semplice rincalzo. Ok Francesco Cavalli già in movimento al gioco ancora favorito Nick Dei Fiori 3,55 gli altri abbastanza lontani 5,20 Spongebob Griff 6,29 Robin Hood M 6,79 Purley Trebb 8,67 Nick Dei Fiori ma tutto è pronto si va in partenza Ottava ed ultima settima ed ultima corsa di Palermo e la corsa prescelta come tris nazionale principale della giornata ippica si va allo stacco stacco che vede partire bene Trilave Font lungo lo steccato ma all'esterno c'è un ottimo guizzo da parte di Spongebob Griff che in poco più di 150 metri sfila al comando nei confronti di Purley Trebb c'è stato l'errore di Trilave Font e così sistema in terza posizione Timast precedendo il numero 9 di Nick Dei Fiori ottima partenza dalla seconda fila per il favorito al gioco della corsa Nick Dei Fiori che però è insofferente a stare sotto e quindi deve spostarlo all'esterno Biagio e Gasparello Verde sta tirando via Spongebob Griff l'andatura sembra abbastanza sostenuta ma ciò non impedisce a Nick Dei Fiori di farsi avanti per linee esterne 43,8 da 1,13 addirittura ai primi 600 metri quindi si sta andando molto forte Spongebob Griff Nick Dei Fiori in avanti a seguire ci sono il 3D lungo lo steccato di Purley Trebb mentre Tessis GV è andata per linee esterne e si ma in terza pariglia i cavalli adesso raggiungono il primo chilometro l'andatura e beh c'è un Nick Dei Fiori che è veramente strepitoso attacca e passa seguita da Rangia Dei Fiori l'altra del team Lo Verde che vuole mettere i suoi fiori su questa Tris Quartè Quintè Nick Dei Fiori, Rangia Dei Fiori in avanti hanno preso il largo e stanco Spongebob Griff viene superato da Tessis GV mentre prova a farsi avanti anche Robin Udoem che ha preso la scia di Tessis ci avviciniamo alla fase conclusiva e addirittura Rangia Dei Fiori che prova lo spunto in retta d'arrivo grande sorpresa quella di Beppe Vitale con Rangia Dei Fiori che a quota di 13 e 74 viene a vincere la Tris Palermitana buon secondo Nick Dei Fiori al terzo posto ce la fa Robin Udoem a prendere la meglio su Tessis GV dunque un risultato in buona parte sorprendente soprattutto per il vincente ha vinto Rangia Dei Fiori con Giuseppe Vitale quota di 13 e 74 training di Francesca Croce ha giustiziato il suo compagno di allenamento come Timulo Verde Nick Dei Fiori compagno di allevamento ha anche Nick Dei Fiori che era andato a demolire il battistrada Spongebob Griff Robin Udoem non ha avuto corsa facile ma alla fine ha preso il terzo posto nei confronti di Tessis GV mentre a chiudere il quinto è il numero 12 di Terrible Joe dunque in numeri 11 al primo posto 9 al secondo 8 al terzo 6 al quarto ed infine 12 al quinto per il vincente